Prendiamo in considerazione un contenitore immaginario a chiusura ermetica. Al suo interno si trova una massa definita di un certo gas, che corrisponde a un determinato numero di molecole. Le molecole, con il loro movimento, occupano tutto il volume disponibile, che corrisponde al volume del sistema gassoso. Le molecole del gas si muovono a una velocità media che dipende dalla temperatura. La frequenza degli urti elastici contro le pareti determina la pressione del sistema gassoso. Lo stato fisico di una determinata massa di gas è caratterizzato da tre grandezze collegate tra loro, volume, temperatura e pressione. Per studiare come queste tre grandezze sono collegate, immaginiamo che il volume del contenitore possa aumentare o diminuire. Ora effettuiamo una trasformazione in cui la temperatura del gas non cambia, cioè una trasformazione isoterma. Se riduciamo il volume, le molecole, pur conservando la stessa velocità media, sono costrette a muoversi in uno spazio minore e quindi urtano le pareti con maggiore frequenza. La pressione del gas aumenta. La relazione esprime la legge di Boyle. In una trasformazione isoterma, il volume di una determinata quantità di gas cambia in modo inversamente proporzionale alla pressione del gas stesso. In altre parole, il prodotto della pressione per il volume di un gas resta costante. Ora effettuiamo una trasformazione in cui la pressione del gas non cambia, cioè una trasformazione isobara. La relazione esprime la legge di Charles. In una trasformazione isobara, il volume di una determinata quantità di gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta del sistema. In altre parole, il rapporto tra il volume e la temperatura assoluta resta costante. Ora effettuiamo una trasformazione in cui il volume del gas non cambia, cioè una trasformazione isocora. La relazione esprime la legge di Guy Lussac. In una trasformazione isocora, la pressione di una determinata quantità di gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta del sistema. In altre parole, il rapporto tra la pressione e la temperatura assoluta resta costante.